Ben trovati al Tg Sordi di Lecce 7. Carlo Salvemini è il nuovo sindaco di Lecce. Il candidato del centro-sinistra ha vinto al ballottaggio contro il candidato del centro-destra, Mauro Giliberti. Si tratta di un risultato storico. Il centro-sinistra torna al governo della città dopo vent'anni. Decisivo l'apparentamento con Alessandro Dell'Inoci. Fine settimana tragico sulle strade salentine. Tre persone sono morte in seguito a gravi incidenti. Sulla Nardò a Vetrana ha perso la vita una giovane mamma di 31 anni di origini brindisine. Sulla Lecce Trepuzzi è deceduta una 35enne albanese, mentre un centauro quarantene di Arnesano è morto sulla Leverano Carmiano. Ballottaggi in provincia di Lecce. A Casarano confermato il sindaco uscente di centro-destra Gianni Stefano. A Galatone ha vinto il candidato di centro-sinistra Flavio Filoni. A Tricase il nuovo sindaco è Carlo Chiuri. A Galatina ha vinto Marcello Amante, sostenuto da una coalizione di liste civiche. I carabinieri di Lecce hanno sgominato un traffico di esseri umani dalla Nigeria all'Italia. Giovani ragazze venivano allontanate dalle loro famiglie e sfruttate come prostitute. Per ognuna di loro i trafficanti pagavano circa 30.000 euro. Cinque persone sono state arrestate. Prima unione civile al femminile nel capo di Leuca. Gioanne Randone, quarantenne siciliana, e Alessia Sanapo, ventisettenne originaria di Specchia, si sono sposate nel municipio di Gagliano del Capo. Annata record per le angurie salentine. Coldiretti prevede una produzione di 900.000 quintali con un fatturato di 25 milioni di euro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.